Le novità sono senz'altro interessanti, prima di tutto quella che riguarda gli studenti, cioè i tirocini formativi e in questo ringrazio sia il Rettore Navarra, il precedente Rettore, sia l'attuale Professore Guzzo Crea, che oltre ad aver confermato il patrocinio della manifestazione, grazie ad una convenzione che abbiamo stipulato un paio di anni fa, attualmente il fotogramma d'oro in questa edizione ospita quattro tirocini formativi rivolti agli studenti universitari, in particolare di quelli che frequentano il Dipartimento Cospex. È un'esperienza senz'altro interessante per la formazione di questi ragazzi che obiettivamente hanno dimostrato grande interesse e oltretutto si sono proposti con idee, progetti, oltre i limiti di quelle che erano le loro richieste per la frequenza del tirocinio.